eccoci accettiamo tutti la distrazione così poi la possiamo rendere disponibile a chi stasera non può essere presente mi vedete vero ragazzi ciao angelo si ok direi che ci siamo allora io muovo le slide tu direi come presidente hai l'onere di introdurre la serata poi se arriva gente la inseriamo perfetto allora intanto buonasera a tutti stasera siamo qui a raccontarvi un po di di lega piloti un po di quello che lega piloti vuol fare nel 2024 saremo io per chi non mi conosce fabio caresi presidente di lega piloti e assieme a me luciano gallo vicepresidente di lega piloti adesso faccio andare alcuni alcuni che si stanno collegando in questo momento e direi luciano possiamo iniziare con con mostrare quello che di cui andremo a parlare stasera quindi ti ti lascio le redini del comando per queste prime slide così poi riprendo va bene va bene allora buonasera a tutti abbiamo pensato di organizzare una serata proprio per esporre in modo abbastanza strutturato e anche dopo averlo un po ragionato quello che è il programma per il prossimo anno che ormai è alle porte di cosa parleremo vabbè allora ci aspettiamo che ci sia qualcuno collegato che non ha non conosce bene l'aeroclubb lega piloti e quindi insomma molto brevemente diciamo ci descriveremo vediamo un po' che cosa fa chi siamo eccetera eccetera descriveremo poi scendremo poi nel raccontare un po' cos'è la stagione 2024 cosa prevediamo di fare il calendario gare che è già ufficiale gli eventi che pensiamo di organizzare come aeroclub lega piloti e altre altre cose che sono diciamo nel nostro perimetro altre iniziative come i training centers di cui appunto parleremo durante la serata alla fine parleremo saremo un pochino più diciamo concreti operativi e vi racconteremo un po' come è possibile iscriversi alla lega piloti e come per chi volesse farla è possibile richiedere la licenza FAI e anche cos'è sempre perché ci aspettiamo che ci sia collegato qualcuno che non ha ben chiaro che cosa sia cosa serve eccetera 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 vi prego di fare domande se avete qualche qualche dubbio su qualsiasi slide che ci sia farla anche subito le slide non sono tante non vi spaventate sono una quindicina però ci sono solo delle tracce e può darsi che molti di voi abbiano delle domande quindi alzate la manina sul zoom e se non me ne accorgo io se ne accorgerà sicuramente Fabio e vi diamo la parola allora iniziamo tanto in questa slide abbiamo cercato di collocare l'aeroclub lega piloti un po' nel contesto delle competizioni parapendio internazionale ci sono un po' in questa slide un po' di soggetti che probabilmente vi sono tutti noti come soggetti però qua cerchiamo un po' di metterli insieme anche per capire chi fa che cosa allora ovviamente adesso noi siamo questo rettangolo questo rettangolo qua grigio l'aeroclub lega piloti poi lo descriveremo meglio però partiamo un po' diciamo dall'alto quindi partiamo dall'alto al nostro sport il volo libero del totlano parapendio e in realtà anche tutte le altre specialità del volo sono fanno riferimento alla FAI cioè alla federazione aeronatica internazionale che sostanzialmente ha poi tutta una serie di commissioni ognuna delle quali si occupa di una specialità ce n'è una in particolare che si chiama che la CIVL è una commissione della FAI che si occupa di del totlano parapendio alla rigida e di tutte le specialità che per questi sport sono state diciamo in qualche modo già ben definito in FAI specialità cosa vuol dire vuol dire che ci sono le gare di di accuracy cioè di precisione ci sono le gare di cross country che sono quelle che diciamo che organizziamo principalmente noi come l'aeroclub lega piloti ci sono anche le gare di acrobazia in Italia esiste una federazione ma diciamo un soggetto che è una federazione un po' particolare che è la Recreo d'Italia che rappresenta la FAI in Italia quindi il rappresentante in Italia della FAI è il Recreo d'Italia e quindi a lui sono delegate a questo ente sono delegate anche l'organizzazione il coordinamento la gestione di quello che è l'aspetto sportivo del volo libero oltre che ma questo penso lo sappiate già bene avendolo probabilmente tutto in attestato anche di tutta quella parte che è più legata al resto di cose scusate un attimo che metto solo ok il caricatore al computer dicevo quindi si occupa anche di sport ed è l'aspetto che a noi come l'aeroclub lega piloti interessa di più noi l'aeroclub non è una scuola è un aeroclub fa attività sportiva fa attività di volo organizza iniziative legate in qualche modo all'agonismo del volo libero noi siamo l'aeroclub lega piloti è un aeroclub locale quindi è un soggetto affiliato all'aeroclub d'Italia come tanti altri aeroclub locali che esistono in Italia il nostro è ovviamente molto non è esattamente monospecialistico forse c'è qualche aglientista ma sostanzialmente ci occupiamo di volo libero quindi parapendio deltaplano è un aeroclub un po' particolare perché non è legato a un territorio specifico ma raccoglie soci un po' in tutta Italia e cosa facciamo noi? facciamo eventi sportivi quindi come le gare di lega piloti organizziamo gare organizziamo o meglio co-organizziamo eventi FAI organizziamo stage eccetera 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 questa è la cosa importante su questa slide trovate anche però un altro soggetto che organizza gare importanti che è la Paragliding World Cup che organizza le gare di Coppa del Mondo e abbiamo messo giustamente anche la FIV perché la FIV è una SD che si occupa di volo libero privata che attraverso i suoi club organizza gare regionali che sono un osservatoio molto importante perché da queste gare spesso arrivano i piloti che poi partecipano alle gare nazionali gli eventi FAI eccetera 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 ci sono domande questa slide ha l'obiettivo appunto di farvi capire dove ci collochiamo come Aeroclub Legapiloti e che cosa facciamo così a grandi linee se non ci sono domande andiamo avanti allora chi siamo? Aeroclub Legapiloti è nato è stato fondato nel 2014 quindi l'anno prossimo sarà il decennale della fondazione sostanzialmente per diciamo riempire un vuoto che si stava un po' creando e che rendeva difficile rendeva diciamo complicato per chi voleva fare gare in Italia per chi lo organizzava e per chi voleva parteciparci avere a che fare con il record Italia per cui è nato un po' con l'obiettivo proprio di agevolare i rapporti tra i piloti interessati allo sport del volo libero e l'Aeroclubietà d'Italia in dieci anni ha organizzato decine di competizioni FAI 2 e anche eventi di FAI 1 gli eventi di FAI 1 per chi non lo sapesse sono i campionati continentali europei nel nostro caso e mondiali è stato insinito dalla FAI con tre premi importanti che sono FAI Sports Medals proprio per premiare la qualità e il successo organizzativo di alcuni di questi eventi l'anno scorso scusate quest'anno 2023 siamo ancora nel 2023 i soci sono stati sono attualmente 182 quindi sono tanti insomma ok allora vediamo che cosa organizziamo organizziamo diverse cose una serie di eventi abbastanza storica in Italia perché esiste dal 2001 che da diversi anni sono organizzati dall'arcobbligo piloti sono i meeting di Lega brevemente per chi non lo sapesse sono gare nazionali riconosciute nel regolamento nazionale valide ai fini delle classifiche nazionali che però sono organizzate con una formula molto spartana ma che sostanzialmente ha l'obiettivo di andare a fare gara nei luoghi dove la meteo sembra migliore guardando in teoria tutta Italia nella pratica poi si riesce a guardare al nord al centro sud il nord è l'appennino centrale fino al centro sud diciamo fino a a Norma Valcomino ecco queste zone qua sono quelle dove pragmaticamente è possibile organizzare questa tipologia di eventi sono confermate sono fatte in due giorni in fine settimana vengono confermate o annullate il giovedì sera quindi 36 ore prima dell'evento l'obiettivo è riuscire a fare due task questa formula in questi anni insomma ha funzionato per quello che erano gli obiettivi quindi di comunque di riuscire ad andare a volare in posti dove la meteo era buona ne parleremo dopo vogliamo migliorare la qualità dell'organizzazione e poi ci sono alcune novità che li vediamo dopo ci sono domande mi fermate non vedo mani alzate allora nel 2024 adesso lo diciamo si vogliono organizzare solo due meeting di Lega cercando poi di migliorare l'organizzazione la qualità organizzativa e proponendo un formato con qualche novità quindi ad esempio vogliamo proporre due percorsi distinti in modo di dare ai piloti più bravi più forti un tema di gara sfidante e nel contempo però non mettere troppo in difficoltà chi magari ha una vela un NC o comunque ha meno esperienza e ha più bisogno di un percorso diciamo alla sua portata quindi questa è una delle novità che vogliamo introdurre l'anno prossimo con anche un po' il tentativo di fare in modo che magari il percorso grosso modo è lo stesso per tutti ma con cilindri molto più grandi quindi vuol dire meno strada da fare per i piloti per il percorso diciamo un po' più easy in questo modo chi partecipa chi decide di fare il percorso più breve comunque ha la possibilità di vedere di volare di fare termica di fare più di una termica con i piloti invece un pochino più bravi un pochino più forti e un'altra cosa un'altra novità che non è una novità ma diciamo è un ritorno e di rendere strutturato quindi di formalizzare in qualche modo la presenza di un tutor per i neofiti che avrà il ruolo di descrivere magari meglio o magari in modo più specifico il percorso di gara prima della task quindi tra il briefing e la partenza della task se è possibile di fare un debriefing anche così molto informale a fine giornata e sempre se è possibile questo è possibile ed è molto utile fare poi un debriefing magari con una con un replay della task in settimana online con delle serate online dove magari si invita un pilota molto forte che magari la task l'ha vinta o è arrivato comunque nei primi e si confronta il suo percorso le sue scelte con quelle degli altri è proprio è un debriefing un debriefing che serve per imparare sostanzialmente altra grossa novità che vorremmo introdurre quest'anno è proprio allora abbiamo pensato di organizzare solo due meeting di lega di solito ne vengono messi a calendario un certo numero per riuscire a farne 4 barra 5 quest'anno ne metteremo solo due perché vogliamo provare a inserire inserire un nuovo formato di competizioni almeno è una formula nuova sperimentale in Italia che abbiamo chiamato winter cup e già il nome spiega abbastanza nel senso che sono organizzati grossomodo come i meeting di lega ovviamente i siti adeguati non sono molti perché parliamo di competizioni calendarizzate dopo lo vediamo il calendario in un periodo dell'anno dove non ci sono molte gare in giro per l'Europa nel nostro emisfero a meno che uno non possa andare poi magari in Australia o in Colombia o in questi posti qua per noi novembre dicembre gennaio febbraio sono mesi dove non ci sono gare invece ci piacerebbe fare organizzare questi eventi nei siti di volo adeguati che non sono tanti ma ci sono in Italia abbiamo Norma abbiamo Valcomino Bassano anche eventualmente anche altre zone quindi un po' meno non andremo magari appunto a Courmayer non andremo in altissima montagna però ci sono le possibilità di fare qualcosa anche in questi siti queste gare saranno già a gennaio e febbraio ne abbiamo messe in calendario due quello che vorremmo fare è cercare di nel formato di queste Winter Cup allora cercare di svolgere delle task almeno una sicura quindi guardare la meteo in quel posto lì permette di fare sicuramente una bella task magari freschetta perché magari comunque fa fresco però fare almeno una task possibilmente anche due oppure la seconda giornata se non è proprio diciamo da task comunque usarla per fare del training dell'allenamento sia a terra sia in volo anche qua vogliamo prevediamo un tutor per i notiti quindi sono degli appuntamenti che possono essere interessanti soprattutto per chi si avvicina alle gare perché c'è qualcosa in più rispetto a una gara classica c'è un po' di accompagnamento c'è un po' di tutoraggio c'è un po' di training c'è l'aspetto di training che è importante stiamo valutando dobbiamo parlare nel gruppo di lavoro che valore dare a queste gare quindi adesso sarà una cosa che verrà un po' ragionata un po' pensata un po' ragionata e è un evento nuovo quindi penso che in qualche modo dovremo anche prevederlo nel regolamento nazionale che andrà aggiornato però questa è la novità del 2024 ne abbiamo previsti due di eventi quindi due eventi di winter cup più due meeting di lega sono di nuovo quattro competizioni diciamo dal format abbastanza simile ma cambiando un po' di cose rispetto a tutto quello che è stato fatto in questi anni ne abbiamo prevista già una però tipo a novembre di winter cup ma già che guarda già l'anno prossimo quindi per noi è già un evento del prossimo inverno allora l'ultima grossa iniziativa che non so quanti di voi conoscono ma che in alcune aree funziona molto bene alcune aree dove è stata dove è già partita sono i training centers che sono in qualche modo sempre organizzati da dal collega piloti nel senso che comunque sono diciamo organizzati in loco non sono non sono diciamo degli eventi di iniziative che hanno carattere nazionale diciamo che il format ha carattere nazionale ma poi sono svolti localmente interessano i piloti competitori o i piloti che si vogliono avvicinare alle competizioni e sono dei momenti di incontro informali ma strutturati durante i weekend volabili soprattutto nel periodo vabbè diciamo nel periodo diciamo che non è quello della stagione delle gare ma anche durante la stagione delle gare ci sono tanti weekend che magari non hanno per fortuna ci sono dove non ci sono gare in calendario nazionale perché magari c'è che so i mondiali da qualche parte la super finale da qualche altra parte allora ci sono magari due o anche tre weekend consecutivi dove in Italia non ci sono gare io parlo di gare nazionali per cui può essere comunque possono essere comunque dei momenti in cui allenarsi in cui trovarsi in modo ripeto informale ma con un minimo di obiettivo cioè di fare qualcosa di fare una task di fare un allenamento di fare un volo di cross in gruppo per migliorare per condividere metodiche di allenamento di pianificazione e così via in questo momento sono già effettivi Centro Sud Norma in particolare a Bassano c'è un gruppo che organizza questo tipo di allenamenti e a Sestola a Sestola diciamo comunque nell'Appennino modenese nel 2024 io vorrei farli partire spero che molti mi aiutino anche al nord ovest quindi diciamo principalmente pedemontana del torinese perché è la zona dove ci sono più piloti però è tutta una cosa che vorrei far partire nei prossimi giorni cominceremo a fare un po' di informazione creeremo un gruppo Whatsapp ci troveremo le prime volte a gennaio e così via questa è un'altra iniziativa che ha brand Aeroclub Lega Piloti un'altra cosa che facciamo un'altra cosa che facciamo sono degli stage nazionali organizzati da noi abbiamo agilità a organizzarli perché intanto molti piloti io non so se tutti ma quasi tutti i piloti più forti in Italia sono soci dell'aeroclub piloti quindi noi chiediamo a questi piloti un aiuto in queste occasioni quindi l'ultimo stage abbiamo fatto l'ultimo stage un mese fa c'era Marco Busetta campione italiano c'era il team della nazionale c'erano altri piloti della nazionale e lo stesso vale anche per gli stage di delta che vengono anche questi organizzati proprio per il fatto di avere comunque agilità a ingaggiare questi piloti possiamo offrire degli stage di una certa qualità gli stage ovviamente di solito hanno degli obiettivi sono mirati a un target di pilota che può essere il pilota di elite può essere il pilota inizia a far le gare quello che vuole capire come funzionano le gare eccetera eccetera e di solito hanno l'attivistica che affiancano una parte di aula alla parte pratica una parte diciamo di corso di teoria alla parte pratica quest'anno abbiamo fatto un paio di stage penso almeno abbiamo fatto dei meeting di lega quest'anno 2023 abbiamo organizzato degli eventi FAI quindi tutte le cose che abbiamo visto fino adesso sono state fatte quest'anno e le riproporremo ripeto dove possiamo migliorare sicuramente cercheremo di farlo con un formato magari innovativo l'anno prossimo vediamo se adesso c'è ecco qua il calendario il calendario ve lo ve lo faccio vedere ma comunque è poi disponibile lo metteremo al limite anche su non so se c'è già sul sito questo questo è sul sito dell'arclub italia probabilmente però allora questi sono gli eventi FAI quindi sono eventi FAI organizzati in Italia da our club italiani ovviamente vedete che qua l'organizzazione questo è il calendario para poi c'è anche un calendario delta il calendario para vedete che noi non siamo gli unici che organizziamo eventi FAI ma ci sono anche c'è l'arclub Blue Phonics sarebbe poi Damiano Zanocco c'è Fabio Pasquali che organizzeranno Norma Reis e il cantonio italiano l'anno prossimo sarà a luglio a Sestola questo è il calendario ovviamente in questo momento le le pratiche organizzative sono già già partite di fatto per i NOTAM per i budget per queste cose qui però le date sono sono queste qua e poi vi faccio vedere ancora il calendario invece degli eventi che non sono eventi FAI ma che sono organizzati dall'archeobbligo a piloti e sono quelli che vi ho raccontato quindi due episodi di due appuntamenti con la Winter Cup uno sarà fra poco più di un mese 27-28 gennaio e un altro sarà a febbraio con un eventuale recupero sempre a febbraio vedete che qua la località di svolgimento è da definire perché dipenderà dalla meteo se la meteo consente di confermarli eccetera 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 poi abbiamo altri due eventi di meeting di Lega uno ad aprile e uno a giugno con la possibilità di un recupero quindi sono comunque alla fine un massimo di quattro eventi l'ultimo l'abbiamo messo però non lo guardate già diciamo oltre a fine stagione o meglio è all'inizio della prossima ed è una winter cup 2025 allora qua adesso io passerei la parola al presidente perché inizieremo raccontiamo un attimo cosa come è possibile iscriversi alla raccolta Lega Piloti cosa vi dà l'iscrizione alla raccolta Lega Piloti e poi la tessera faghe eccetera 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 sì allora tanto grazie Luciano i discorsi sicuramente sono da farsi differenziati per chi è già socio e per chi sarà magari un nuovo socio da quest'anno l'iscrizione all'aeroclub Lega Piloti quest'anno si è deciso di mantenerla a una quota associativa di 80 euro come negli ultimi due anni dove per questioni organizzative di gestione di segreteria questa diciamo quota agevolata 80 euro sarà limitata fino al 31 gennaio dal 31 gennaio in poi salirà a 100 euro come era già quest'anno nel 2022 volevamo ricordare sia per chi è già stato iscritto Lega Piloti ma soprattutto sottolineare per chi si avvicina per la prima volta a un aeroclub federato che nella questa quota questa quota associativa racchiude in realtà principalmente i 50 euro che sono la quota federativa che per ogni socio l'aeroclub Lega Piloti e gli altri federati devono versare all'aeroclub d'Italia e quindi di conseguenza quello che abbiamo cercato di trattenere sempre al minimo per non gravare troppo su quelli che sono i costi di ognuno di noi per partecipare ai nostri eventi e per essere pronti ad affrontare la stagione 2024 quindi tenere delle spese di gestione il più basse possibili con l'iscrizione all'aeroclub Lega Piloti quindi cosa si ottiene si ottiene di fatto la possibilità di accedere a tutti quegli eventi di Lega Piloti non fai di cui ci ha parlato poco fa Luciano quindi il training center a seconda della località più vicina a voi o se vi spostate per un weekend anche con gli altri centri di allenamento ai meeting di Lega e alle Winter Cup che quindi scusate verranno proposte da quest'anno sempre attraverso l'iscrizione all'aeroclub federato quindi all'aeroclub Lega Piloti è possibile richiedere associativamente a questo la licenza FAI 2024 che vedremo successivamente e tutto questo pacchetto di informazioni per chi lo affronta per la prima volta è totalmente suddiviso per sezioni sul sul sito legapiloti.it quindi poi faremo girare anche i link lì su legapiloti.it trovate le informazioni necessarie per una prima iscrizione che è sicuramente quella più articolata ecco andiamo alla successiva Luciano ovvero esatto quest'anno o meglio già dal 2023 quindi dall'anno in corso l'obiettivo l'obiettivo del del consiglio dell'aeroclubica piloti è stato quello di cercare di promuovere il più possibile l'arrivo di linfa nuova quindi nuovi soci nuove persone interessate a tutto questo mondo e quindi magari anche piloti giovani che si affacciano per le prime volte dopo i loro percorsi magari in qualche campionato regionale al mondo delle gare nazionali e internazionali con gli eventi fai per fare questo per tutti i nuovi iscritti che saranno nuovi iscritti nel 2024 abboniamo quelle spese di gestione e chiederemo solo rispetto agli 80 euro solo i 50 euro che che di fatto vanno inviati ad AECI forse una piccola cosa su quello che che viene effettivamente speso ogni anno però è sicuramente un'agevolazione che per noi ha un posto ma soprattutto ci vuole la vogliamo fare per dare un incentivo in più ecco un qualcosa in più per chi magari si avvicina dicevamo attraverso attraverso l'iscrizione all'aeroclub lega piloti ma come a qualsiasi altro aeroclub federato si ha l'accesso si può richiedere la licenza fai e vogliamo fare alcune alcune premesse perché spesso si 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 discute negli atterraggi e si parla erroneamente di tutto quello che è il mondo tessera fai ovvero è bene ricordare che l'aeroclub d'Italia è colui come ci ha descritto benissimo prima Luciano che è preposto alla alla gestione del mondo sportivo del volo sia nei confronti della fai quindi della federazione internazionale che anche del coni del comitato olimpico quindi nel momento in cui attraverso un aeroclub federato come come iscrizione a lega piloti si versano gli 80 euro e quei 50 euro vanno all'aeroclub d'Italia si diventa di fatto atleti sportivi per una legge che ormai ha più di 13-14 anni se non ricordo male 2009-2010 in Italia vige l'obbligo per un qualsiasi atleta di qualsiasi settore però riconosciuto atleta quindi certificato anche dal coni attraverso i suoi enti c'è l'obbligo di una polizza infortuni e questa polizza infortuni quindi è obbligatoria e capiamo bene capite bene che sicuramente ha un peso ben diverso per le assicurazioni redigere dei contratti di assicurazione per il mondo del volo libero rispetto al mondo del calcio al mondo del ciclismo dove i numeri sono completamente diversi rispetto ai nostri la licenza FAI che viene rilasciata attraverso l'aeroclub d'Italia si fa attraverso come già anticipato un aeroclub federato e serve quindi all'effettivo per partecipare a quegli eventi che siano FAI due organizzati sul territorio italiano o all'estero e quindi queste sono tutte le premesse complete per arrivare al succo di discorso a quelli che sono i numeri di fatto che si affrontano ogni anno con le nuove iscrizioni procedi pure Luciano ovvero i costi la licenza FAI nel mondo quindi la FAI chiede un tesseramento di 26 euro questo è da diversi anni che è così il costo è di 26 euro per essere diciamo affiliati quindi atleti in Italia abbiamo detto c'è l'obbligo di un'assicurazione e da da diversi anni ormai l'aeroclub d'Italia si fa carico di contrattare con le compagnie assicurative attraverso dei bandi pubblici che durano solitamente tre anni il miglior prezzo per offrirci un'assicurazione in fortuni che copre quindi ci copre dal momento in cui facciamo la tessera FAI che solitamente non può essere al primo di gennaio perché siamo tutti o meglio crede tutti in festa ma sicuramente dal 15 gennaio lasciatemi dire dal 10 gennaio appena viene rilasciata fino al 31 dicembre in questo periodo in questo periodo tutti i voli che effettuerete non solo in gara ma anche i vostri voli diciamo del sabato e della domenica i voli di cross i voli che sono voli di allenamento perché siete atleti e quindi vi allenate alle competizioni sono coperti da questa pollizza in fortuni quindi vuol dire con delle tabelle specifiche anche la slogatura in atterraggio in un volo normalissimo della domenica può essere risarcita in base a quelle che sono le tabelle specifiche questa assicurazione da metà 2022 e quindi per tre anni da metà 2022 ha un costo di 102 euro e 70 il contratto precedente dei precedenti anni era quasi di 80 euro maggiore con un altro broker assicurativo quindi di fatto quest'anno in questo triennio siamo fortunati perché si sono raggiunte delle agevolazioni in più quindi la tessera FAI di 26 euro più l'assicurazione obbligatoria arriviamo a un totale di 128 euro e 70 per la parte diciamo di di tessera FAI a cui va sommato poi l'affiliazione a a un aeroclub e in questo caso l'aeroclub lega piloti lasciatemelo dire da da che è stato fondato ed è stato fondato per questo ha il costo di affiliazione più basso in assoluto quindi gli 80 euro o quest'anno i 50 per i nuovi iscritti per un totale di 208 euro e 70 con questi 208 euro quindi noi partecipiamo a tutti gli eventi FAI abbiamo l'assicurazione che ci copre in qualsiasi volo dell'anno gara o non gara e abbiamo avete l'accesso a tutti gli eventi organizzati da da lega piloti con la possibilità di confrontarvi con i piloti di più alto livello che ci sono in Italia perché come dicevi correttamente prima Luciano non posso dire in assoluto tutti ma il 90% dei dei migliori piloti al mondo di deltaplano e parapendio sono piloti lega piloti e questo deve essere anche una nota di orgoglio per questi dieci anni di attività che continuiamo a portare avanti volevo solo aggiungere una cosa Fabio perché è una domanda che mi hanno fatto in molti questa assicurazione quella compresa quella compresa quella diciamo che accompagna obbligatoriamente la licenza FAI non ha la parte RCT quindi comunque dovrete fare prima quando volete voi la assicurazione RCT che la legge del volo richiede a tutti che abbiano licenza FAI e che non abbiano licenza FAI questa è complementare cioè aggiunge a quella quella alla assicurazione RCT che avete fatto che è obbligatoria per legge per volare aggiunge delle altre coperture che sono tendenzialmente quelle di una polizia infortuni light ma comunque diciamo anche questa norma di legge meloni che è quella appunto della legge che obbliga tutti gli sportivi ad essere assicurati dalle loro federazioni quindi questa è una puntualizzazione che volevo fare quindi comunque se non sapete se fare o no la licenza FAI però intanto fatevi l'assicurazione obbligatoria RCT e poi decidete e l'altra cosa importante che ha detto Fabio è preferibilmente in gennaio perché poi ci sono 20 euro in più e anche perché poi perdete comunque un primo mese di copertura no? Sì in chat vedo che Gianluca chiede perché su 80 euro di iscrizione al club 50 euro vanno alla ECI perché è un obbligo dell'aeroclub d'Italia noi per essere federati e quindi per poter essere in regola con l'organizzazione la gestione di eventi FAI le assicurazioni che dobbiamo attivare quando siamo organizzatori di qualcosa perché anche chi organizza deve essere assicurato durante la gestione di un evento quindi per avere questo status per ogni socio che iscriviamo dobbiamo versare 50 euro all'aeroclub d'Italia questo è un obbligo e da qui non si scappa vi dico aggiungo questo nei primi sei anni visto che adesso siamo fra due mesi siamo al decennale nei primi sei anni la lega piloti chiedeva l'iscrizione a 30 euro quindi per i primi sei anni non è che ci chiedeva l'eroclub d'Italia per i primi sei anni abbiamo fatto carte false non nel vero senso della parola abbiamo fatto sì che con gli eventi che riuscivamo ad organizzare e le sovvenzioni delle regioni e così via riuscivamo a raccimolare quei 20 euro che di fatto di tasca nostra mettevamo per costare il meno possibile ai piloti quindi il pilota ci dava 30 e noi versavamo 50 all'aeroclub d'Italia e nel 2017 o 18 adesso non mi ricordo siamo saliti a andare in pari 50 euro di iscrizione e da un paio d'anni per i costi di gestione che comunque dobbiamo sostenere abbiamo deciso di stare leggermente sopra per per non dover rimetterci di tasca nostra quindi capite che è un è un passaggio fondamentale per per far stare in piedi tutto tutto l'organismo spero di aver risposto completamente l'assicurazione infortuni è valida anche su competizioni fai ex europee o va integrata no l'assicurazione infortuni fai o meglio l'assicurazione infortuni fatta tramite la richiesta di test rafai italiana copre i piloti anche quando vanno a fare la gara in francia in austria o in slovenia o dall'altra parte del mondo se posso volevo aggiungere vai vai per completezza siccome mi è arrivata una richiesta qualche settimana fa chi può richiedere la tessera fai in italia solo piloti che hanno il brevetto di volo italiano questo è un punto fondamentale sì no volevo solo aggiungere questo sulla verità all'estero allora andrebbe fatto un po' di distinzione nel senso che la 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 situazione dell'assicurazione vale in tutto il mondo il problema qual è è che le coperture essendo coperture quelle definite dalla legge melandri non meloni come ho detto prima la legge melandri sono coperture diciamo minimali in un certo senso no e toccandosi tendono molto a coprire il caso morte o il danno molto grave e poi che noi ci aspettiamo sempre che non succeda no allora diciamo che se uno va a fare qualche gara in Europa tutto sommato non è un problema se siamo in area EU il nostro servizio sanitario nazionale in qualche modo ci viene incontro se però andiamo fuori usciamo dall'Europa andiamo in Sud America andiamo in Asia andiamo a fare in Australia allora lì siamo un pochino più scoperti e ci sono delle e conviene diciamo sarebbe utile sarebbe opportuno contrarre un'assicurazione più specifica ce ne sono non ce ne sono tante hanno dei costi ma però garantiscono voglio dire garantiscono magari un rientro sanitario quindi un rientro in aereo magari dal Brasile di un certo tipo che ha dei certi costi gli garantiscono più cose peraltro lo dico lo dico così come federazione la FIVL sta cercando in qualche modo di offrire tramite benacquista qualcosa del genere che sia un pochino più modellato all'esigenza proprio dei piloti che vanno a fare le gare all'estero e che non si accontentano fatemi dire di 1500 euro di costi per la ricerca o cose di questo tipo quindi su questa cosa qua io dico a tutti se andate a fare gare all'estero con l'Europa avete dei dubbi contattate i piloti più esperti contattate dell'Europa che obbligo a piloti vi possiamo dare qualche indicazione di qualche prodotto che può essere utile c'è una domanda di Michele allora buonasera quindi i piloti giovani già iscritti non hanno nessuno sconto per quanto riguarda i meeting di Lega allora Michele in realtà è un tema che stiamo discutendo in queste settimane perché sicuramente come è già fatto per lo stage giovani piloti del mese un mese fa è stato Luciano non mi ricordo più o meno sì che anche per la stagione 2024 stiamo valutando le modalità per agevolare i giovani piloti quindi sicuramente manderemo comunicazioni in seguito di niente quindi stiamo parlando diciamo che abbiamo messo abbiamo dato pubblicità alle promozioni certe che abbiamo già diciamo definito e che servono subito perché uno si iscrive il 2 gennaio per i meeting di Lega per le Winter Cup c'è un po' più di tempo e quindi avrete sicuramente un'informazione l'intenzione c'è ovviamente come come club piloti di attrarre non solo i piloti che non fanno ancora gara perché sono il primo anno di gare ma anche quelli giovani perché sono quelli sono il futuro quindi averne 50 significa avere fra 10 anni 3-4 campioni aggiungo aggiungo un punto visto che abbiamo toccato il tema proprio iscrizioni al momento non sono ancora aperte le iscrizioni 2024 abbiamo deciso di attendere ancora qualche giorno saranno aperte circa da metà settimana prossima anche lì manderemo comunicazioni sui nostri canali social via mela ai soci e così via anche perché da sempre l'aeroclub d'italia comunque anche se noi iniziamo a raccogliere iscrizioni prima di natale l'aeroclub non vuole ricevere nulla prima del primo di gennaio quindi deve essere tutto contestuale all'anno solare di conseguenza anche noi ci siamo un pochettino adattati cercheremo di partire con le domande di iscrizione dal 28 29 dicembre per iniziare a processarle e mandarle con i primi giorni di gennaio in Aeroclub non vedo altre domande non so se sono stati chiarissimi o noiosissimi forse sono stati chiaramente noiosi però questa informazione volevamo fare per l'RCT si deve fare tramite FIVL si può fare tramite FIVL diciamo che sicuramente non è un servizio che diamo noi e non è un servizio che dà neanche l'Italia quindi l'RCT si può fare anche individualmente io la faccio tramite FIVL la maggior parte li fa tramite FIVL perché è una polizza un pochino più matura un pochino più adeguata però l'importante è che sia un'RCT a norma di legge insomma il broker in Italia è uno ma alla fine purtroppo è rimasto uno quindi se volete fare con la FIVL secondo me è la cosa migliore ma poi si può fare anche direttamente insomma ci sono altre due domande sopra Luciano sì Marina dove possiamo trovare queste assicurazioni più specifiche per gli altri continenti mi viene da dire Marina è complicato il tema è complicato perché fino a un paio d'anni fa c'era un'assicurazione la April che dava un qualche un qualche aiuto in più adesso se non sbaglio è già è già due anni che 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 non che non dà questo servizio ho un anno o due che è sparita e il tema è il tema è difficile proprio perché i broker assicurativi non essendoci numeri essendo pochi pochissime queste richieste non hanno dei pacchetti specifici e ben adeguati sì su qui ci dovrebbe essere anche Alberto Castagna però mi ricordo che negli anni insomma si sono rincorsi un po' questi prodotti per chi va all'estero a fare gare fuori Europa principalmente e forse c'è qualcosa multisport che ha un costo intorno a centinaio di euro ma non all'anno a periodo a periodo adesso non c'è il link sotto mano però se se mi scrivete in qualche modo lo recupero ve lo do però veramente ogni anno scompaiono dei prodotti magari vengono modificati non vanno più bene magari escludono il volo libero o escludono le competizioni quindi è un tema delicato è un tema delicato altra domanda per partecipare a tutte le iniziative di AC lega piloti ci sono limiti di età lo stage a norma era limitato ai 33 anni perché erano stage giovani in realtà era limitato ai giovani la parte pratica no la domanda la risposta è no la partecipazione ai meeting di lega e alla winter cup e anche al planning center è aperta a tutti quelli che hanno interesse a avvicinarsi o a partecipare o sono già inseriti nel mondo delle gare di cross country quindi ti ho risposto allora è valida per il paramotore o solo il libro chiaramente no perché alla licenza fai per il paramotore è un'altra cioè nel senso che se fate gare di paramotore fai e volete la licenza fai adesso non so quanti siano quelli che le fanno però chiedete la licenza fai per il per il vds motore che non è la stessa che chiedete io non ne so molto ma vi posso dire che non è la stessa quindi non so quanto costi l'assicurazione non so quanto quanto costi la licenza fai in toto eccetera eccetera però no non è la stessa non è la stessa è un'altra perché non è la stessa perché è un'altra specialità la licenza fai anche se la rilascia avvertita di taglia su richiesta degli aeroclub locali in realtà è istituita dalla fai della federazione aeronautica internazionale si chiama così proprio per questo motivo e la fai la federazione aeronautica internazionale distingue le specialità di volo e distingue in modo netto il volo libero a motore il vds motore compreso il paramotore e il volo libero diciamo senza uso di motore quindi del papano per appendio eccetera eccetera e sono specialità fai diverse allora tutta l'informazione per le iscrizioni all'aeroclub ah una cosa che non abbiamo detto la dico l'ho data l'abbiamo data per scontata però attenzione se chiedete la licenza fai tramite noi o tramite qualsiasi altro l'accordo d'italia il rilascio della licenza fai è condizionato al fatto che abbiate rinnovato abbiate convalidato perché il termine giusto è questo abbiate convalidato l'attestato in un accordo d'italia quando avete fatto l'ultima visita medica se no la licenza fai anche se avete già pagato non viene rilasciata quindi l'arco d'italia controlla verifica diciamo lo status del pilota se ha convalidato presso di lui l'attestato rilascia la licenza fai se no vi dice devi rinnovare devi convalidare l'attestato mandami la visita medica mandami 52 euro eccetera 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 le informazioni per le iscrizioni sul nostro sito troverete trovate già ma non è ancora aperta l'iscrizione le informazioni per iscriversi all'air club lega piloti e per la richiesta della licenza fai correggimi sottolineo anche nel menu iscrizioni c'è dall'anno scorso quindi da 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 natale 2022 un video tutorial perché dall'anno scorso abbiamo aperto al un gestionale che vi consente di fare il 90% della richiesta tutto online e quindi c'è questo tutorial da vedere lo trovate nella lista del menu iscrizioni sul sito legapiloti.it per per appunto registrarsi sul gestionale e seguire i passaggi di di richiesta di iscrizione da che da che le apriremo in questo modo si limita abbiamo limitato il più possibile anche il solo fatto di dover stampare il pdf compilarlo a mano firmarlo scansionarlo rimandarlo e e così via scusate allora Federico Nevastro chiede che siete iscritti ad un altro club quindi non siete iscritti ad un altro club dei capiloti siete iscritti ad un altro club ce ne sono altri in Italia insomma ce ne sono anche alcuni che fanno solo volo libero no? quindi non ce ne sono tantissimi ma ci sono può fare le gare di lega o deve essere iscritto alla lega pagando due volte a ECI allora questa cosa qui è un po' complicata nel senso che fino a quest'anno c'era il concetto di socio aggregato esatto che era il socio che aveva già iscritto allora intanto creiamo una cosa le gare di lega le organizzano le lega piloti si può partecipare peraltro le gare di lega anche sono l'uniche gare che si può a cui si può partecipare senza licenza FAI perché questo perché diciamo con delle delle condizioni particolari è una specie di gara sociale la possiamo vedere così no? allora per essere iscritti se uno è iscritto ad un altro club vocale c'era la la soluzione del socio aggregato quindi del socio che pagava una quota più bassa mi sembra forse 40 euro sì esatto che perché perché era già iscritto da un'altra parte e aveva già versato la sua quota da una presso tramite un altro club federato all'erocchio d'Italia quindi in realtà non è che si iscrive due volte all'erocchio d'Italia o meglio si paga una volta sola sostanzialmente però adesso con la 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 legge con diciamo la necessità di rinnovare gli statuti questa figura probabilmente scompare quella del socio aggregato io non so Fabio se ne abbiamo parlato di cosa fare di tenere o di non tenere perché poi c'è stata adesso la deroga a giugno insomma di capire un po' come fare è stato tutto spostato a giugno e quindi ne dobbiamo discutere penso che la soluzione ma non vi do la certezza stasera sarà comunque di mantenere la figura del socio aggregato almeno per quest'anno però così nota di servizio con la riforma dello sport che c'è in atto c'è la necessità e l'obbligo per l'aeroclub d'Italia di rinnovare il suo statuto e di conseguenza anche di rinnovare tutti gli statuti e quindi la gestione dei soci dei consiglieri di tutto quello che è l'organigramma degli aeroclub federati come l'aeroclub lega piloti quindi siamo in una fase di transizione per ora dovremmo mantenere le cose come il 2023 però non c'è questa certezza una cosa che volevo aggiungere comunque per fare il meeting di legale Win Trek Cup bisogna avere licenza FI a meno che se uno è iscritto a recluega piloti se uno non è iscritto a recluega piloti deve avere licenza FI perché deve essere assicurato mentre svolge quella attività insomma quindi comunque puoi iscriverti a Feltre per dire fare licenza FI e poi fare le gare di lega Andrea Carloni chiede bella l'iniziativa della Winter Cup ma come mai questa cosa ha portato nell'edizione dei meeting di lega nella stagione buona ma allora diciamo che ne abbiamo parlato diversi paio di mesi che lavoriamo su su queste iniziative e sostanzialmente c'è stato anche a un certo punto l'idea di mettere in pausa il meeting di lega per un anno per concentrarci più sulle cose che ci sembravano più importanti poi ha prevalso l'idea di continuare a farne solo due cercare di organizzarli meglio di strutturarli un po' meglio e però due perché comunque le energie le risorse le persone che possono lavorarci quelle sono e più di 4 5 eventi includendo poi anche tutte le altre cose quindi i training center gli stage altre cose non si è si è pensato di non riuscire a farle quindi teniamone due cerchiamo di farle meglio e sono e sono quelle che che avete visto in calendario poi Marco scrivi io sono italiano ma con licenza fai più assicurazioni ottenute all'estero allora se hai la licenza fai vai dall'estero puoi partecipare agli eventi fai anche in Italia presumo che puoi fare all'estero e puoi fare anche in Italia devi verificare se la tua assicurazione RCT è adeguata per volare in Italia per volare in Italia perché se gli australiani non ti chiedono una polita assicurativa integrativa i fortuni ci sta benissimo perché comunque non hanno la legge Melandri in Australia probabilmente però l'RCT deve verificare che i massimali siano quelli previsti dalla legge italiana cosa molto probabile peraltro quindi devi verificare che l'assicurazione australiana RCT ti copra in Italia non solo in Australia perché non è detto insomma allora qui c'è ecco qui il buon Alfio ha messo questo link che trovate in chat che è il link di una assicurazione valida cioè valida nel senso che viene fatta per andare appunto all'estero nei paesi un pochino più esotici e che è la Multisport infatti questa è quella che ricordavo io la Multisport l'oro Alfio la fa diverse gare in giro per il mondo quindi è un pilota interessato al tema e sicuramente ha valutato questa come non dico la migliore ma quella forse più più adeguata rispetto a quello che offre il mercato allora Andrea Cecchetto sì a questo posso rispondere io si può chiedere attraverso la Lega Piloti anche la licenza Fai per il Parmatore almeno vedendo i registri 10 sapete confermarmi allora noi come diceva prima Luciano l'aeroclub Lega Piloti è principalmente un aeroclub di volo libero abbiamo alcuni soci che attraverso di noi richiedono anche la tessera Fai per altre discipline vale a dire volo volo motore e volo a vela il che vuol dire che nella parte di iscrizione infatti nel gestionale è possibile farlo viene aggiunto un secondo costo di tessera Fai quindi si aggiungono 26 euro per ogni disciplina che si va a richiedere purché la disciplina principale sia il volo libero e questo come viene verificato viene verificato semplicemente da Eci perché nel momento in cui stiamo mandando avanti la parte di assicurazione la parte di assicurazione è relativa al pacchetto assicurativo volo libero quindi si 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 apre un un tema che io dovrei verificare anche con con quei 7-8 soci che abbiamo che fanno la licenza Fai doppia comunque si è possibile purché il la disciplina primaria sia il volo libero multisport multisport compre copre il parapendio ma copre poco sia da quello che dicevo prima nel senso che è quella che adesso si fa perché non perché è ottimale magari non è neanche soddisfacente però è il meno peggio che c'è no e quindi piuttosto che niente si va con quella no come dicevo prima questa è una una cosa un po da insider come federazione si sta cercando di ci è chiesto a ben acquista di proporre un qualcosa che sia adeguato con delle coperture più adeguate no quindi con un non so cosa verrà fuori non so quando verrà fuori però ci si sta lavorando è anche su questa cosa qui e quindi avrete avrete insomma speriamo di avere presto informazioni no magari averle però comunque per la stagione di gare ecco però sì il problema è il problema è concreto nel senso che non c'è una polizza soddisfacente in assoluto ma si prende quella che si trova insomma in questo momento c'è la multisport e se andate a vedere i massimali le coperture effettivamente non sono forse quelle attese allora questa Alemada fa una domanda facile facile la so questa allora la differenza tra eventi fai 1 e fai 2 la fai distingue in categoria 1 e categoria 2 i suoi eventi quelli che in un certo senso battezza che inserisce nei suoi calendari gli eventi di fai 1 fai 1 sono sostanzialmente i campionati mondiali e della specialità quindi può essere deltaplano può essere alla rigida può essere parapendio può essere può essere anche accuracy può essere acro i campionati mondiali e i campionati continentali continentali non ce ne sono tantissimi c'è i campionati europei ci sono i campionati asiatici qualche anno ci sono poi non li organizzano magari poi li organizzano di nuovo i campionati americani che includono america sud america o panamericani questi sono eventi di categoria 1 fai 1 gli eventi invece di categoria 2 fai 2 sono tutti eventi organizzati non direttamente dalla fai ma da ad esempio l'air club dei grapiloti che presenta la richiesta dell'air club d'italia che la fa inserire o comunque diciamo agevola l'inserimento nel calendario fai eventi fai di categoria 2 ce ne sono centinaia basta andare nel sito della fai ce ne trano centinaia tutto l'anno perché ovviamente ci sono su tutti gli emisferi e hanno una valenza minore normalmente le iscrizioni sono aperte a tutti mentre gli eventi fai categoria 1 mondiale europei si iscrivono sostanzialmente piloti delle nazionali e gli iscrive la diciamo il soggetto che è che rappresenta la fai in quel paese quindi nel nostro caso l'arocchio d'italia che iscrive 5 piloti della nazionale agli europei che ci sono l'anno prossimo in spagna pedraita non mi ricordo comunque che ci sono l'anno prossimo gli eventi fai 2 invece di solito c'è una selezione però chiunque può chiedere di partecipare insomma quindi avendo la licenza fai in corso di verità per l'anno dell'evento sì Alberto io ti direi che se hai voglia di intervenire ti liberiamo il microfono e sul perché ci sono diverse domande su questa assicurazione fuori Europa quindi se hai voglia di intervenire l'ha scritto l'ha scritto a me Alberto ti farei ti farei intervenire così magari aggiungi delle cose perché tu sei uno dei massimi esperti mi senti? si sentiamo Alberto sì ok grazie Alberto Castagna per chi per chi non conoscesse Alberto insomma Alberto Castagna Timidale Nazionale 30 anni che porta in giro dei pazzi in giro per il mondo e questo problema ce l'ha ben chiaro esatto io mi scuso prima di tutto per intervenire in una serata dove la IC Lega Piloti sta presentando quello che sarà il 2024 e devo dire faccio i complimenti al presidente a Luciano a Fabio a Luciano e a tutto il loro staff per quello che stanno facendo io veramente complimenti a voi perché è uno step aggiuntivo a quanto già nei dieci anni precedenti la IC Lega Piloti ha fatto argomento assicurazione che rubo proprio 3-4 minuti non di più perché l'argomento è importantissimo ma allo stesso tempo è anche pesante per certi versi allora prima di tutto facciamo la distinzione così andiamo un po' a scaletta un pilota che fa l'attestato e che vola per fatti suoi quindi la serie non fa gare non fa nulla di nulla una volta che ha fatto l'RC parliamo dell'Italia una volta che ha fatto l'assicurazione RC quindi RCT responsabilità civile obbligatoria come diceva giustamente Luciano prima ha risolto il suo problema punto secondo step inizio a fare qualche gara e mi avvicino al mondo delle competizioni quello che hanno spiegato Fabio e Luciano quindi mi scrivo alla Cilega Piloti o un altro a IC ma la Cilega Piloti come loro due hanno detto benissimo racchiude il 90% forse secondo me anche di più di tutti i migliori piloti italiani che forse sono anche tra i migliori piloti del mondo una volta fatto questo lo step è quello che si diceva prima licenza Fai automaticamente collegato a licenza Fai c'è un'assicurazione per legge non è stato stabilito né dal REO Club né da Cilega Piloti da nessun REO Club c'è una legge che appunto come diceva Luciano legge Melandri che ha stabilito nel 2013 2014 che per ogni atleta italiano atleta quindi parliamo in qualsiasi sport che fa sport ci deve essere questa assicurazione che copre è un'assicurazione diciamo infortuni cosa vuol dire? praticamente fondamentalmente copre i dati sono proprio questi con la licenza Fai se uno io quindi parlo di me volando ho un incidente dove ci lascio le penne e chi ho messo come erede delle mie penne ok prende 80.000 euro punto se invece di morire c'è tutta una serie di altri incidenti che possa avere mi rompo un dito mi rompo un braccio mi rompo una mano si parla di rottura distorsioni slogature colpi di frusta non sono coperti da questa assicurazione rotture quindi più sale il tipo di rottura quindi mi rompo la C1 quindi una delle vertebi più importanti di questo mondo del nostro corpo o c'è una tabella che indennizza il tipo di incidente e questa è la licenza Fai che copre come ha detto Luciano in tutto il mondo e in tutte le situazioni anche non in competizione come ha spiegato bene Fabio quindi anche durante gli allenamenti addirittura copre un itinere io sto andando in macchina al decollo per fare un volo che è un allenamento essendo io processore di licenza Fai e quindi atleta italiano e se faccio un incidente potrei essere coperto da questa assicurazione punto e si ferma lì quando invece andiamo all'estero a fare delle competizioni ma anche dei voli non in gara cosa può succedere? Bisogna essere realisti nella vita non bisogna dire ma a me non succede no no senza può succedere a tutti noi partendo da me no? Quando si va all'estero fuori Europa soprattutto e anche qui Luciano l'ha spiegato bene perché in Europa ci sono tramite la UE ovviamente la nostra il nostro servizio sanitario nazionale copre con i vari accordi intergovernativi copre i costi eventualmente di ricovero i costi di diligenza i costi per l'analisi i costi di rimpatto nel caso io mi faccio male e di conseguenza non posso tornare seduto su un aereo tranquillamente ma ci vuole un'eleambulanza piuttosto che un'eleambulanza e così via se invece vado fuori Europa e quindi per fuori Europa intendo tutto quello che è ex UE a parte piccoli paesi dove ci sono accordi governativi ma facciamo fita che non ci siano e Luciano giustamente ha detto Brasile cioè Brasile scusate Sud America Asia Stati Uniti Sud Africa Australia soprattutto in questi ultimi tre che ho citato i costi sono i costi di ricovero e ospedalieri sono enormi senza un'assicurazione uno è un po' nei guai perché succede un problema solo essere ricoverati a parte il rescue voglio dire il recupero da parte dell'elicottero o di un aereo che viene a cercarvi dove siete finiti ma il ricovero in ospedale comporta immediatamente pronto soccorso analisi e così via e i costi salgono in maniera incredibile allora lì è necessario avere un'assicurazione aggiuntiva quindi RC che facciamo quando ci brevettiamo e per tutti gli anni che vogliamo è obbligatorio licenza FAI e quindi iniziamo a farle gare assicurazione FAI che ci copre dal punto di vista infortunio ma copre il nostro infortunio non altre cose terzo eccola qui che arriva un'assicurazione che copre che cosa A sono ricoverati in ospedale e quindi i costi di interventi in ospedale mille duemila quaranta mila euro per quattro cinque giorni di ricovero per esempio in Sudafrica o negli Stati Uniti o in Canada sto citando cifre reali non sto inventando le cifre sono immobilizzato dopo un'operazione o dopo una frattura al bacino per esempio devo tornare in Italia con cosa torno in Italia non certo su un aereo Boeing 747 seduto bello tranquillo con l'hostess che mi porta la bottiglia di vino o il bicchiere di vino anzi dovrò volare in un'aereoambulanza i costi sono altissimo faccio un esempio molto semplice per capirci Johannesburg rientro da Johannesburg quindi Sudafrica Monaco di Baviera 98 mila euro vuol dire che uno se non ha un'assicurazione deve tirar fuori 98 mila euro se vuol tornare in Italia e farsi curare in Italia punto allora queste assicurazioni che ci servono per fare queste gare coprono tutti questi costi lasciamo perdere anche qui sono molto piatto quando uno muore perché c'è poco da fare viene messo dentro una scatola e costa poco per un'assicurazione costa poco il problema non si può punto ma i costi vivi di ricovero i costi vivi di spese per l'analisi e i costi di rientro ok sono altissimi allora qual è l'esistente ho visto che qualcuno ha mandato mi sembra Alfio se non ho scritto ho anche sì Alfio mi sembra si è scritto se non mi ricordo bene ha mandato 24 ore assistance che in questo momento è quello che utilizziamo di cui utilizziamo perché anche come nazionale e tutti i piloti che vanno in giro per fare la coppa del mondo utilizzano perché è l'unica assicurazione in questo momento ha un costo accettabile anzi super accettabile 96 euro all'anno che ti copre che cosa per il quanto riguarda il rientro in patria nel caso di non possibilità di volare in aereo tranquillo seduto sul sedile ma quindi in aereo ospedale chiamiamolo così copre totalmente i costi 96 euro all'anno copre totalmente i costi 98 mila euro da Johannesburg a Monaco di Babilia quindi già potete fare un confronto togliendo qualche zero due copre il search and rescue quindi la ricerca e il recupero mi sembra se non mi ricordo male la cifra è intorno ai 20 mila euro ed è una buona copertura perché da noi è facile ma se andate sulle ande a volare non è così facile partono gli aerei a cercarvi e lì ogni giorno sono 2, 3 mila 4 mila euro di costi che vanno come niente dollari scusate che vanno come niente quindi intorno ai 20 mila euro il problema di questa assicurazione è qual è il costo o meglio quello che rimborsa nelle spese in loco cioè io sono ricoverato in ospedale in Brasile facciamo un esempio a caso e lì iniziano a farmi le analisi nel giro di 3, 4, 5 giorni esami del sangue lastre tac tutto quello che ci può essere arrivo a 5, 6 mila 7 mila 10 mila euro ecco questa assicurazione arriva a un massimale nel senso scusate non è un massimale è un tetto massimo di 1500 euro nulla io ho parlato del Brasile che ha i costi bassi ma se voi andate in Canada in Sudafrica o negli Stati Uniti con 1500 euro non vi fanno probabilmente neanche la radiografia punto allora questo è la realtà dei fatti in questo momento io ho provato a chiedere non solo io ma a Flavio Tebaldi che è il mio omonimo nei Delta abbiamo fatto richieste domande in giro da tutte le parti abbiamo chiesto anche all'AIC nel senso di Arotar d'Italia di farsi carico come si fa carico per l'assicurazione legge Melandri di dire cavolo mettiamo in piedi un'assicurazione con tutte queste coperture che ci permetta di far sì che i nostri piloti non solo dei nazionali ma anche chi va a fare un volo per divertirsi appunto nelle Ande per esempio possa volare tranquillo e non siamo riusciti a fare nulla allora ultimamente come ha detto Luciano un contatto con la FIV c'è stiamo aspettando le date dovrebbero essere se sono rispettate ai primi di gennaio che è quello che ho chiesto io perché poi diversi piloti partiranno per fare le gare ai primi di gennaio di avere la possibilità di un'assicurazione che copra tutti questi eventi che vi ho spiegato a un costo che non sia di 3.000 euro perché se no diventa una cosa elitaria ma che sia una cosa non dico 96 euro ci mancherebbe ma accessibile a tutti questa è in questo momento la realtà e quello che abbiamo e quello che vorremmo avere in pratica l'estero così abbiamo la panoramica su tutto no è difficile fare un confronto con austriaci svizzeri francesi tedeschi perché le assicurazioni si comportano diversamente a seconda del paese dove tu vivi faccio un esempio molto semplice gli svizzeri con la rega che sarebbe il corrispondente del nostro soccorso alpino ok loro fanno un'assicurazione dove gli copre diciamo il search and rescue quindi la ricerca SAR e in più questa assicurazione vale anche all'estero e tutto quello che vi ho detto prima è coperto da questa assicurazione secondo me che romani stiamo parlando di 70-80 franchi all'anno il cambio svizzero 70-80 franchi sono facciamo 80 euro stiamo tondi ma devi essere un cittadino svizzero se sei un cittadino italiano non puoi fare questa assicurazione o meglio la fai la rega ti copre il search and rescue in Svizzera ma se vai all'estero tutto il resto non viene coperto punto va la stessa cosa non per quanto riguarda il soccorso ma con gli austriaci e i francesi faccio un esempio l'assicurazione non mi viene il nome ma una grossa compagnia assicurativa in Francia con 60-70 euro copre tutto quello che vi ho spiegato prima all'estero fuori Europa punto in Italia la stessa assicurazione e dice che non può farlo perché il nostro è considerato sport estremo di conseguenza l'assicurazione non permette di fare la compagnia assicuratrice non permette di fare questo e perciò ci troviamo in una situazione veramente anomala no tenete conto anche di che ebifermo tantissimi piloti che vanno in giro per il mondo esteri a volare soprattutto non è vero extraeuropei stavo dicendo extraeuropa ma non è vero perché poi mi è venuto un flash su altri argomenti non hanno coperture assicurative non hanno coperture assicurative e dobbiamo essere dobbiamo essere freddi l'incidente purtroppo può capitare può capitare a tutti e non è un problema che sfiga no 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 può capitare a tutti noi dobbiamo avere la certezza che quando andiamo a volare qualcuno che è a casa è garantito che se io ho un problema questo problema un'assicurazione me lo copre è brutto dirlo ma è la realtà è brutto dirlo ma è la realtà allora gli step che vi ho detto sono quello che serve ad ogni pilota partendo dal brevetto per arrivare al campionato mondiale certo se uno va in nazionale alcune assicurazioni sono coperte nazionali ma questo è un aspetto di merito chiamiamolo così in pratica ma se io vado a volare per fatti miei in Canada non esiste che non faccia un'assicurazione che mi copra su ogni cosa perché se no rischio di vendere la casa per tornare in Italia scusate se sono stato duro e magari anche un po' pesante ma vorrei che fosse chiara questa cosa grazie no no grazie mille Alberto che anzi il fatto che lo racconti tu è rafforzativo per tutta l'esperienza che hai e che hai maturato in questi anni quindi assolutamente deve essere chiaro per tutti Luciano non so se c'è un'altra domanda ci sono ancora un po' di domande allora Federico chiede la Winter Cup allora non porta punti non lo so Federico è uno dei temi che dobbiamo sviscerare nel gruppo che si sta occupando di questa cosa ci sono magari idee diverse si troverà sicuramente una formula per questa cosa qui quindi in questo momento la risposta è non lo so Alessandro Luciani chiede deve partecipare al stage training immagino training center e le gare organizzate dai legapiloti non occorre la licenza fai allora per il stage non occorre la licenza fai non occorre neanche essere scritti dal club legapiloti o meglio ne abbiamo fatti alcuni aperti a tutti l'ultimo era aperto a tutti e chi partecipava veniva inserito in un corso che veniva quindi coperto dall'assicurazione eccetera per i training center per gli eventi organizzati invece dalla legapiloti che hanno un carattere che non sono che non siano stage invece non è richiesta la licenza fai però è richiesta la riscrizione della legapiloti una cosa però importante è questa qui io lo dico proprio non so come rafforzarla questa cosa però se uno è interessato a entrare nel mondo delle competizioni la licenza fai la deve fare perché ti dà un'assicurazione che ti copre come diceva Fabio tutti i giorni dell'anno che vai a volare anche quando vai a volare ti copre dal qualsiasi incidente che ti può capitare e in più ti permette di partecipare in modo più autorevole in modo completo anche alle gare non solo alle 20 fai ma anche alle gare di lega perché questo lo dico le gare di lega hanno una classifica se hai la licenza fai sei nella classifica diciamo open se no sei in una classifica a parte questo non ti impedisce di partecipare però è un'altra cosa io la licenza fai la promuovo proprio a 360 gradi quindi e va fatta all'inizio dell'anno così vi mettete tranquilli per tutto l'anno allora questa qui di Gabriele D'Arrigo lui ha mandato anche lui il link alla Multisport ci sono alcune competizioni all'estero che richiedono alcune coperture assicurative infortuni rientri alcune diciamo sì alcune coperture assicurative di un certo tipo questo perché perché a volte alcune organizzioni si sono trovate a dover sostenere i costi del pilota che non aveva come diceva Alberto nessun tipo di copertura e poi l'ospedale il rescue il servizio di recupero sono andate a bus quindi in alcune in alcune gare viene richiesto una copertura assicurativa poi non so quanto si è verificato quanto sia diciamo quanto l'organizzatore sappia andare a dire ma a controllare effettivamente se la copertura c'è però di fatto questa cosa è vera ovviamente coperture minime no ovviamente poi andiamo avanti Joe andava bene anche in Colombia non so cosa se ti riferisci se ti riferisci alla multisport sì la licenza fai sì nei limiti nei limiti di polizza quindi come diceva Alberto se devono cercare in Colombia nella foresta amazzonica probabilmente ti cercano e ti copre completamente la multisport se però hai delle spese sanitarie in ospedali eccetera eccetera là in loco hai una copertura che arriva a 1500 euro dopodiché ci devi mettere i soldi di tasca tua quindi bisogna leggere bene le polizze e capire che cosa coprono fin dove coprono allora vai vai aggiungo che mi è stato scritto in privato da Alessandro giustamente una cosa che non abbiamo risottolineato ribadito per quella promozione riguardo ai nuovi soci quindi non abbiamo scritto in chiaro che i costi lega piloti più richiesta di licenza fai che in totale normalmente sono per tutti i rinnovi 208 euro per chi è alla prima iscrizione ci saranno i 30 euro in meno quindi 178 euro con 178 euro è il totale per chi fa l'iscrizione a lega piloti e richiesta di testa fai come nuovo socio in 2024 grazie Alessandro che me l'hai fatto rimarcare corretto corretto allora Giovanni Giovanna Gaetani chiede sarebbe opportuno anche spiegare la distinzione tra fai e civl e presentare il sito civl events ma allora non lo volevamo fare in questo contesto qua perché volevamo veramente dare delle macro informazioni che possono essere utili soprattutto a chi appunto non non ha chiaro alcune cose fondamentali la civl l'ho detto velocemente all'inizio è comunque solo è una commissione civl è stata una commissione qui è francese questa roba qui quindi commissione internazionale volo libero ed è la commissione della fai la fai è una commissione che si occupa appunto del volo libero e ha tutta una sua autonomia decisionale ha le sue assemblee ha i suoi presidenti i suoi delegati eccetera eccetera ma secondo me è poco importante per il pilota che si avvicina le gare conoscere sapere bene cosa si avviene mentre invece c'è un sito se voi volete sapere quali sono gli eventi fai due organizzati dal fai due andate sul sito della fai barra civl quindi sito fai commissione civl oppure cercate volo libero parapendio e avete la lista di tutti gli eventi organizzati in ordine cronologico dove per luogo potete fare delle ricerche tutti gli eventi fai di categoria due anche di categoria uno ma diciamo che in categoria uno ce n'è uno due tre quattro all'anno non di più di categoria due e magari scoprite che ce n'è uno vicino in slovenia per chi è in friuli può essere un'opportunità o in austria o in francia e così via e quindi il sito civl potete farci un giro è abbastanza intuitivo quindi si può andare a vedere aggiungo luciano anche l'altro c'è oltre a quello fai c'è anche quello proprio per le iscrizioni che è attivo da un paio d'anni c'è welcoms.org per le registrazioni che sta prendendo lasciatemi dire un po' il posto di Air Tribune da questa parte si nel servercoms è il sito dove potete andare poi effettivamente a iscrivervi a una competizione entrare nelle liste di attese venire confermati eccetera eccetera insomma gestisci tutta la parte di pre di pre-iscrizione e iscrizione e così via Giuliano scrive questa boh perché alcune compagnie grosse all'estero danno fanno delle ottime coperture assicurative in Italia no qualcosa ha detto forse Alberto prima e non lo so perché però tanto non le possiamo andare a ah i francesi che assicurazioni hanno non lo so forse Alberto lo sa i francesi i francesi girano molto il mondo per gare e io penso che penso che loro abbiano un'assicurazione che possono fare solo i francesi quindi siamo di nuovo da capo ecco diciamo così non so quale ma sicuramente magari anche poi la federazione francese che gli dà una mano a mitigare i costi però penso che abbiano sicuramente una possibilità che noi come italiani non possiamo cogliere sono arrivato in fondo non so se ho risposto a tutti anche la gente vedo che se ne sta andando però è stato diciamo che è stato interessante domande ne sono arrivate tante vediamo nei prossimi giorni cosa novità che vedremo sento qualcuno che è russa deve essere Andrea però io non lo posso bloccare non lo posso bloccare è il primo comunque ma lo posso silenziare sono stati noi oggi sono stati noi oggi lascio questa ultima informazione quindi se stasera ho ancora collegato c'è qualcuno che non è mai stato socio o lega piloti comunque quindi ha bisogno di informazioni o chi di voi ha bisogno di altre informazioni in merito c'è la mail segreteria chiocciolalegapiloti.it è la mail generale a cui potete scrivere poi vediamo di trovare le risposte che cercate per darvi una mano per tutta la parte di inizio di stagione va bene ti lascerei chiudere come presidente allora intanto ringrazio Alberto per l'intervento Luciano per aver preparato questa serata assieme ad altri ragazzi del consiglio che oltre a tutte le serate che facciamo c'è anche la preparazione di 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 tutto di tutto questo questo con queste parte fondamentale quindi ci ci aggiorniamo alla prossima settimana diciamo ufficialmente con l'apertura delle iscrizioni 2024 va bene va bene vado a interrompere anche la registrazione registrazione lo metteremo su youtube tempo qualche giorno lo metteremo su youtube e sul sul canale dell'oratorio lega piloti quindi potete poi riascoltarlo esatto